C'è invece il ministro Giorgetti, un messaggio istituzionale del titolare dello sviluppo economico, anche lui non è potuto essere presente per i suoi impegni però ci teneva a partecipare al lavoro e a queste giornate dei giovani imprenditori di Confindustria e quindi è qui con la forma, con questa forma che conosciamo, con questo videomessaggio. Sentiamo insieme Giorgetti. Saluto tutti i presenti, in particolare il presidente di Confindustria, di Stefano e Bonomi, che mi hanno invitato a questo evento dove forte risuona il desiderio di fare impresa, che è premessa indispensabile alla ripresa che ci assingiamo a vivere. I dati del PIL sono confortanti e le previsioni ci fanno ben sperare anche per i prossimi mesi. tutto il paese però deve dire grazie proprio a voi imprenditori, giovani e meno giovani, che non vi siete mai fermati, cercando ogni giorno di restare ostinatamente aperti, anche nelle condizioni più disagiate per portare avanti ogni tipo di produzione e servizio. Mi scuso per non poter prendere parte a questa giornata perché vi assicuro che come ministro dello sviluppo economico, penso che proprio voi che incarnate la voglia del fare, che tanto prezzo, meritiate l'attenzione e anche la presenza, ma purtroppo motivi istituzionali che mi trattengono all'estero mi impediscono di essere fisicamente lì. Vorrei evitare la retorica, però vorrei anche sottolineare quanto sia cruciale questa fase storica. Vorrei soffermarmi su un aspetto che prescinda da questa specifica congiuntura, perché in ogni epoca l'imprenditore ha svolto una funzione sociale che come tale è mutata nel tempo. L'attività di impresa infatti è definita e tutelata dalla Costituzione e dal Codice Civile, ma al di là delle norme, la verità è che dietro ogni azienda c'è un imprenditore disposto a rischiare. Sui manuali è troppo spesso tralasciata questa componente, che insieme al lavoro e capitale è un fattore produttivo parimenti funzionali a successo di ogni azienda, grande o piccola che sia. Dal tavolo in cui lavoro come ministro ho avuto tante occasioni di conoscere persone veramente capaci che mandano avanti le aziende. È un dato di fatto che in Italia abbiamo una classe imprenditoriale eccellente, in grado di lavorare in maniera consapevole per il bene collettivo, non solo per il loro giusto guadagno. Ogni imprenditore è figlio della sua epoca ed è portatore di valori e cultura che si formano e mutano a differenza delle fredde materie prime, che sempre le stesse rimangono prezzo a parte. Allora mi vorrei soffermare sul ruolo svolto da voi imprenditori, perché la pandemia, oltre a dolore e difficoltà, ci ha fornito anche alcuni spunti di riflessione utili. Dobbiamo fermarci, riflettere e ripartire con intenzioni migliori rispetto a quelle che avevamo magari all'inizio del 2020. Come ministro sento forte la responsabilità del mio ruolo, perché sono un membro del governo con competenze specifiche, ma la responsabilità di ciascuno di voi non è di certo inferiore alla mia. Potrei fermarmi a snocciolare le misure di competenza del MISE, le partite su cui stiamo lavorando, come quella delle start-up e dell'economia circolare, o le missioni del PNRR, che di sicuro già conoscete nel minimo dettaglio. Anzi, forse così il mio compito sarebbe anche più facile, ma non voglio perdere questa ghiotto occasione per fare un dialogo, nonostante, diciamo così, l'impossibilità di essere fisicamente tra voi. Credo davvero che l'esercizio dell'attività di impresa, laddove avviene gestendo le risorse in maniera onesta e produttiva, crei valore, andando ben oltre il risultato economico di esercizio. Nel momento in cui si produce reddito, lavoro e benessere, l'impresa si fa carico di svolgere una funzione etica, sempre, ma soprattutto adesso, indispensabile alla tenuta sociale. Non possiamo fare finta di non sapere che l'occupazione viene generata solo dalle imprese, che al mio Ministero cerchiamo di sostenere in ogni condizione, da quelle sane, che vogliono crescere investendo, a quelle in crisi che presentano però le premesse per ripartire. Il mantenimento del posto di lavoro starà a cuore a tutti e non soltanto ai sindacati. Ognuno deve fare la sua parte, ma il motore siete voi. Target di sostenibilità, transizione ecologica e digitale saranno solo proclami se non ci aiuterete a trasformare queste misure in prodotti, processi e dunque nella nostra quotidianità. Io non ho una ricetta o un consiglio da darvi perché la vostra forza risiede nella peculiarità che ciascuno, attraverso il suo irripetibile spirito imprenditoriale, può mettere a servizio del Paese. È il momento di metterci al lavoro con entusiasmo e coraggio, ascoltando quel desiderio profondo di cambiare il mondo che anima ogni imprenditore e pure evidentemente ogni politico. Vorrei chiudere ricordandovi le parole del grande Presidente di Confindustria Costa, protagonista per più mandati negli anni della ripresa del boom economico. L'imprenditore ha doveri più gravi degli altri uomini perché ha più possibilità con la sua opera di influire del benessere del prossimo. Allora, cari ragazzi, vi auguro buon lavoro, sicuro che ce la metterete tutta come in ogni momento in cui il Paese ve l'ha chiesto arrivando al successo. Buon lavoro! Grazie a tutti!